Massimo Bitonci, il Premier Letta non sembra avere chiare o almeno il suo governo sul fenomeno migratorio che sta avvenendo in questo periodo nel nostro paese? È un governo che sembra avere una linea doppia, la linea di Letta che è la linea del PD, la linea buonista, la linea di sinistra nei confronti dell'immigrazione e poi la linea che sembra essere più risoluta da parte del Ministro Alfano. In realtà questo è un momento storico in cui non si può essere assolutamente buonisti. Bisogna chiudere, bisogna cercare di bloccare quelle che sono le partenze degli immigrati dalle coste Nordafrica. Quando Letta ha parlato di grandi fenomeni migratori africani che quindi dobbiamo considerare quella che è la situazione anche storica, economica e geopolitica del Nordafrica e dell'Europa noi gli rispondiamo che dobbiamo assolutamente difendere prima il paese e quindi cercare di bloccare questa migrazione molto pesante che avrà comunque delle ripercussioni non solo sull'economia ma sulla vita dei nostri cittadini. Noi non possiamo permetterci di mantenere ad avere una pressione demografica così grossa dai paesi Nordafrica nel nostro territorio. È molto pericoloso e lo stiamo già pagando in termini di sicurezza.